Mister, so che voi amate dire che non guardate la classifica, però secondo me guardate le partite e gli ultimi dieci minuti di ieri di diretta gol della Serie B sono stati piuttosto belli dal nostro punto di vista. Devo dire che sotto quell'aspetto è stata una giornata piuttosto positiva, però quello che dobbiamo fare noi, come ho detto già ai ragazzi, è pensare al nostro percorso indipendentemente poi da quello che possano fare gli altri. Domani, la squadra, ci sono dei giocatori che tirano la carretta, qualcun altro che sembra comunque un po' in ritardo normalmente di preparazione come Ciciretti, cioè come ci si regola con questo turnover? Immagino che recupererà Dezzi, però mi aspetto anche qualche forza fresca, magari sulla fascia. Vediamo, è chiaro che quando ci sono delle partite così ravvicinate si aspetta sempre proprio l'ultimo momento per decidere gli undici da mandare in campo, però solitamente quello che si cerca di fare è di pensare all'impegno prossimo, cioè la partita di Ascolo dove si cerca di mettere la migliore formazione possibile, però questo si fa fino, ripeto, si fa un'analisi a 360 gradi, un po' di tutte le situazioni. Per quanto riguarda il percorso di crescita del singolo, sappiamo che Amato è avvenuto da un periodo di infortuni, quindi è normale che il suo percorso di crescita sia un po' rallentato. Un'altra domanda per adesso, poi lascio lo spazio ai colleghi, un po' particolare. Sono andati in diffida Lucarelli e Frattali, Lucarelli ci sta perché i difensori di cartellini ne prendono, però Frattali non è la prima volta che esce dall'area per andare a difendere i compagni o a chiarire qualcosa con l'avversario, cioè prende cartellini così. Credo che in quella circostanza, nello specifico, lui è andato a battere la punizione, quindi diciamo che Largo è stato pignolo per quanto riguarda lui, però in alcune circostanze prima ci sono stati due giocatori del Cittadella che si sono messi davanti alla parte e non hanno fatto ripartire l'azione. È chiaro che questo è un aspetto che va migliorato, perché i cartellini gialli alla lunga possono pesare, quindi è un aspetto che tutti quanti dobbiamo migliorare, dobbiamo fare attenzione, perché poi nelle ultime partite, ripeto, possono essere decisivi, quindi il cartellino giallo va sprecato nel momento in cui magari ce n'è proprio bisogno. Sì mister, buongiorno. Buongiorno. Dopo un giorno, due giorni, sono passati due giorni dalla partita con il Cittadella, come l'avete inquadrata? C'è sempre l'impressione di avere il bicchiere mezzo pieno, perché secondo me la squadra ha fatto una buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo. Voi come l'avete inquadrata? Ma sicuramente, perché comunque se si va ad analizzare la partita, credo che se palle clamorose come le abbiamo create, indipendentemente dal fatto che magari il secondo tempo si è potuto far meglio rispetto al primo anche sotto l'aspetto del gioco, però la possibilità e le condizioni per vincere la partita le abbiamo avute. In questo caso specifico, un po' per demerito nostro, diciamo che non siamo stati bravi a sfruttarle, però il rammario che c'era dopo la partita deve rimanere quello di non aver portato a casa i tre punti, ma dove comunque la prestazione c'è stata, poi indipendentemente dai risultati successivi. Le ho fatto questa domanda perché l'Ascoli in realtà è una squadra simile alla Cittadella, adesso sta vivendo tra l'altro un periodo positivo, che partita si immagina? Sarà una partita con notevoli difficoltà, dovremmo essere bravi noi a limitare queste difficoltà e cercarle di non far fare quello che sta facendo ultimamente, perché come hai detto giustamente te, ultimamente i risultati in casa hanno tirato fuori un po' la situazione dell'Ascoli, è una situazione pericolosa e mi viene in mente la partita che sono riuscito a vincere anche con il Bari. È una partita che nasconde delle insidie, ripeto, dobbiamo essere bravi noi a superarle e cercarle di farle presentare il meno possibile. Da qui alla fine sono tutti impegni difficili, la maggior parte delle partite le affronteremo con delle squadre che sono lì a lottare per non retrocedere ed è statistica e storia che nel giorno di ritorno queste squadre ottengono sempre più punti rispetto all'andata, quindi dobbiamo essere bravi, lì dove c'è da usare il fioretto è di usare il fioretto e dove c'è da usare la sciabola è di usare la sciabola, perché il campionato di Serie B è questo, c'è bisogno di completezza un po' su tutte le situazioni, quindi mentalmente dobbiamo essere pronti ad affrontare una partita difficile dove ci sarà una squadra che cercherà di tutto per far risultato. Al di là del fatto che anche l'Ascoli debba salvarsi e che stia facendo comunque bene in casa, quali sono i punti di forza di una squadra, ripeto, rinata? Sicuramente una squadra che partirà forte, sicuramente una squadra che comunque sfrutta anche una situazione ambientale dove la curva è molto attaccata al campo e quindi ci sarà una spinta maggiore. Ripeto, dovremmo essere pronti a fare una partita sia a livello tecnico e tattico in maniera perfetta in tutte e due le fasi, ma soprattutto anche sotto l'aspetto caratteriale, dove c'è magari anche da reggere l'urto di una squadra che ti arriverà forte addosso per giocatori fisici, mi viene in mente Adai e altri giocatori. Abbiamo le potenzialità per affrontare la partita sia in un caso che nell'altro, quindi ci vuole maturità e lettura dei momenti dove ci sarà appunto da poter giocare, dove ci saranno anche momenti di battagliare, sportivamente parlando. Tornando ai singoli, un attimo, Dezzi come sta? Si è allenato regolarmente, sia lui che Antonio Vacca, è chiaro che poi vediamo domani per poi le scelte definitive. Comunque sono due giocatori che stanno stringendo i denti, quindi sta a dimostrare quanto loro tengono al fatto di magari andare in campo anche in condizioni non ottimali, perché Antonio ha stretto i denti finché ce l'ha fatto, quindi questo va fatto un plauso a tutti i ragazzi. E si riguardi lo stesso? Si, si è allenato regolarmente, lui aveva solo una forma influenzale, quindi è convocato. Io volevo fare le ultime due domande molto semplici, anche fin troppo banali. La prima è che con Cittadella si è esaltato Paliari che era il portiere di riserva e anche domani sera ci sarà il portiere di riserva, che tra l'altro appena è entrato in campo a Foggia ha parato un rigore, quindi non è che io quando ho visto espulso il portiere, beh cavolo, giocano col portiere di riserva, poi in realtà non costa molto. No, no, non è una domanda banale, perché se noi pensiamo di avere dei vantaggi sul fatto che gioca il portiere che ha contribuito alla vittoria del campionato e che fino a poco fa era il titolare, non è una domanda banale, anzi ti ringrazio di questo per far capire che assolutamente ci sarà in porta un portiere di categoria, ripeto, che è quello che ha vinto il campionato che fino a poco fa era il titolare, quindi non lo considero un secondo. Anche all'andata infatti era l'anni il titolare. Invece l'ultima domanda, visto che con Cittadella avete giocato per primi, domani giocate per primi rispetto al resto delle partite, giocano martedì. Ho visto che la partita con la Ternana viene anticipata alle 3, con tutte le altre di sera. Vi dà un po' fastidio giocare sempre per primi? Ma quello che dobbiamo fare è pensare alla partita e basta. Il fatto di giocare prima o dopo cambia poco perché come ho detto prima quello che dobbiamo fare è quello di pensare al nostro percorso. Il nostro percorso in questo momento dice che mancano 7 partite e dobbiamo affrontare ogni singola partita come se fosse l'ultima. E' chiaro che qualche problematica te la porta nel momento in cui nell'organizzazione non poter fare sport, questo poi comporta non allenarsi in maniera regolare e magari qualche volta qualche infortunio di troppo è dovuto anche a questa situazione. Però ci siamo abituati anche dal fatto che l'anno scorso comunque essendo una società con un brasolo, una squadra importante come il Parma e però, ripeto, per noi non deve essere assolutamente un alibi che può essere stata la storia del calendario.